è un bellissimo lunedì di fine febbraio alle tre pomeriggio, quindi poco fa Bloomberg pubblica una notizia che riguarda la nazione Italia e che è giusto condividere Bloomberg quando pubblica non pubblica a caso perché sono tutti dati, numeri, cifre che hanno una valenza, che hanno un valore a livello economico e soprattutto finanziario quindi non c'è nulla da ridere e non c'è nulla da scherzare sono da prendere veramente in maniera seria ha analizzato 169 nazioni al mondo e l'Italia risulta essere una delle pochissime nazioni considerate sane cioè dove si mangia bene, dove si vive bene dove c'è l'aria più pulita, dove c'è l'aspettativa di vita maggiore insomma una delle poche nazioni in cui vivere è un affare in Europa diciamo non è la sola ma sono poche non troviamo la Francia, non troviamo la Germania però troviamo l'Islanda, troviamo la Norvegia, troviamo la Spagna, troviamo la Svizzera in tutta l'America, nord, centro e sud ci sono i soli Stati Uniti in Asia troviamo ad esempio Israele da una parte e il Giappone dall'altra quindi c'è l'Australia non sono proprio così tante e questa quindi è una cosa positiva che da italiano agli italiani ce la prendiamo e ce la portiamo a casa è un'altra cosa è un'altra cosa